La fidanzata Erano già le dieci di sera e sopra il giardino splendeva la luna piena. Nella casa degli Shumin era appena finito il vespro che la nonna Marfa Mikhailovna aveva fatto celebrare e adesso Nadia, che era uscita nel giardino per un momento, vedeva come nella sala si apparecchiasse la tavola per lo spuntino, come si affaccendasse la nonna vestita del suo sforzoso abito di seta. Padre Andrei, l'arciprete della cattedrale, stava parlando di qualche cosa con la madre di Nadia Nina Ivanovna e adesso la madre, alla luce dell'illuminazione serale, attraverso la finestra appariva chissà perché giovanissima. Le stava accanto il figlio di Padre Andrei, Andrei Andrieic, e ascoltava con attenzione. Il giardino era silenzioso e fresco e ombre scure e calme erano posate sul terreno. Si udivano in qualche posto lontano, molto lontano, probabilmente fuori di città, gracidare le rane. Si sentiva nell'aria il maggio, il caro maggio. Si respirava profondamente e si aveva voglia di pensare che lì, ma chissà dove, sotto il cielo, sopra gli alberi, lontano dalla città, nei campi e nei boschi, si fosse ora dischiusa una vita primaverile particolare, misteriosa, bellissima, ricca e santa, inaccessibile alla comprensione dell'uomo debole e peccatore. E chissà perché si aveva voglia di piangere. Lei e Nadia aveva 23 anni. Fino dai 16 anni aveva sognato appassionatamente il matrimonio e ora, infine, era la fidanzata di Andrei Andrieiz, quello stesso che stava in piedi, di là dalla finestra. Egli le piaceva. Le nozze erano già state fissate per il 7 di luglio, ma intanto non provava gioia. La notte dormiva male. L'allegrezza l'era sparita. Da una finestra aperta si poteva udire che nel sotterraneo, dove era la cucina, si si affrettava, si faceva rumore coi coltelli e la porta a puleggia sbatteva. Si sentiva odore di tacchino arrosto e di ciliegia marinate. E chissà perché, pareva che ora, così sarebbe stato per tutta la vita, senza mutamento, senza fine. Ecco che qualcuno è uscito di casa e si è fermato sul terrazzino. È Alexander Timofeiz o semplicemente Sasha, un ospite che è giunto da Mosca una decina di giorni fa. In un tempo lontano andava spesso dalla nonna per riceverne la carità una sua lontana parente, Maria Petrovna. Una nobile, vedova, impoverita, piccola, magrolina, malaticcia. Aveva un figlio, Sasha. Non so perché si diceva di lui che fosse un bravissimo pittore. E quando gli era morta la madre, la nonna, in suffragio dell'anima propria, l'aveva mandato a Mosca, all'istituto con Missarovski. Di lì a un paio d'anni, egli era passato alla scuola di pittura. Era rimasto là poco meno di 15 anni e aveva finito al meglio gli studi nella sezione architettura. Ma di architettura tuttavia non si occupava ed era impegnato in una litografia di Mosca. Quasi ogni estate arrivava dalla nonna, di solito molto malato, per riposarsi e rimettersi. Adesso aveva indosso una giubba abbottonata e dei calzoni di tela logori, con sunt in basso. Anche la camicia non era stirata e tutta la sua persona aveva un certo aspetto poco fresco. Era magrissimo, con otti grandi, con dita lunghe, magre, barbuto, scuro di carnagione e tuttavia bello. Agli Schumensi era abituato, come a parenti, e da loro si sentiva come a casa sua. e la stanza che egli occupava lì era chiamata già da un pezzo, la camera di Sasha. Mentre stava sul terrazzino, scorse Nadia e andò verso di lei. «Si sta bene qui da voi?» disse. «Certo che si sta bene. Dovresti restare qui fino all'autunno. Sì, così probabilmente mi toccherà fare. Rimarrò da voi magari fino a settembre». Egli si misi a ridere senza motivo e le sedette accanto. «E io sto qui seduta a guardare la mamma», disse Nadia. «Di qua sembra così giovane. La mia mamma, certo, ha delle debolezze, soggiunse dopo un po' di silenzio. Ma è pur sempre una donna straordinaria». «Sì, ottima», assentì Sasha. «La vostra mamma è certamente, a modo suo, una donna molto buona e cara. Ma come dirvi?» «Stamane presto sono entrato nella vostra cucina e là quattro donne di servizio dormivano addirittura sul pavimento, senza letti, in luogo di letti dei cenzi e puzzo, cimici, scarafaggi. Le stesse cose di vent'anni fa, senza alcun cambiamento. «Beh, la nonna che Dio la benedica non è la nonna per niente, ma la vostra mamma, credo, parla francese, prende parte a spettacoli. Pare che potrebbe capire». Quando Sasha parlava, allungava davanti al suo ascoltatore due dita lunghe e scarne. «Tutto qui mi fa un certo effetto strano». «Per mancanza d'abitudine», continuò. «Lo sai il diavolo che cosa sia, ma qui nessuno fa niente. La mamma passeggia soltanto, tutto il giorno, come una duchessa. E anche la nonna non fa niente. E voi anche. E il fidanzato, Andrea Andrieitz, anche lui non fa niente. Nadia aveva già sentito queste cose. L'anno avanti le pareva anche due anni avanti. E sapeva che Sasha non poteva ragionare altrimenti. E prima ciò la faceva ridere, ma ora chissà perché provò dispetto. «Tutto questo è vecchio e mi è venuto a noia da un pezzo», disse, e si alzò. «Dovreste inventare qualcosa di un po' più nuovo». E gli rise e si alzò del pari e tutte e due andarono verso la casa. Alta, bella, ben fatta, ella aveva ora accanto a lui un aspetto molto sano ed elegante. Lei sentiva ciò, aveva pietà di lui e chissà perché provava disagio. «Dite anche molte cose superflue», e la disse. «Ecco, poc'anzi avete parlato del mio Andriei, ma voi non lo conoscete mica?» «Il mio Andriei, che Dio lo benedica, il vostro Andriei. A me, ecco, fa pena la vostra giovinezza». Quando entrarono nella sala, tutti già si stavano mettendo a tavola. La nonna, o come la chiamavano in casa, la nonnuccia, molto grassa, brutta, con le sopracciglia folte e i baffetti, parlava forte e già dalla sua voce e dal suo modo di parlare si poteva vedere che era in casa la persona più autorevole. Possedeva delle botteghe al mercato e una casa con le colonne e un giardino. Ogni mattina pregava Dio perché la preservasse dalla rovina e intanto piangeva. E la sua nuora, la madre di Nadia, Nina Ivanovla, bionda, molto stretta nel busto, col pinsinezze e con brillanti su ciascun dito e padre Andrei, un vecchio magrolino e sdentato con un'espressione come se stesse per raccontare qualcosa di molto buffo e suo figlio Andrei Andriais, il fidanzato di Nadia, grasso e bello, coi capelli inanellati, simile a un attore o a un pittore, tutte e tre parlavano dell'ipnotismo. «Tu da me ti rimetterai in una settimana», disse la nonnuccia rivolgendosi a Sasha. «Mangia soltanto un po' di più». «Ma a che cosa rassomigli?» sospirò. «Hai diventato spaventoso. Hai proprio l'aspetto del figlio al prodigo». «Ccialacquata la sostanza donata gli dal padre», proferì padre Andrei ad agio, con gli occhi e i denti, si pasce il draietto insieme a quei bruti irragionevoli. «Io voglio bene al mio bambino», disse Andrei Andrei e toccò il padre sulla spalla. «È un vecchio eccellente, è un buon vecchio». Tutti tacquero. Sasha a un tratto si mise a ridere e prene il tovagliolo sulla bocca. «Dunque voi credete nell'ipnotismo?» domandò padre Andrei a Nina Ivanovna. «Non posso certo affermare di credersi», rispose Nina Ivanovna, dando al suo volto un'espressione molto seria, perfino severa. «Ma devo confessare che in natura c'è molto di misterioso e di incomprensibile. sono perfettamente d'accordo con voi, benché debba aggiungere per conto mio che la fede riduce notevolmente il campo del misterioso». Fu servita una grossa tacchina, molto grassa. Padre Andrei e Nina Ivanovna continuavano la loro conversazione. I brillanti sfavillavano sulle dita di Nina Ivanovna, poi negli occhi le luccicarono delle lacrime. Ella cominciò ad agitarsi. «Sebbene io non osi discutere con voi», disse Ella, «ma convenitene, nella vita ci sono tanti enigmi non risolti. Neppur una, ve l'assicuro». Dopo cena, Andrei Andrei sonò il violino e Nina Ivanovna lo accompagnò sul piano. Egli, dieci anni prima, aveva terminato i corsi universitari nella facoltà di lettere, ma non era impiegato in nessun posto. Un lavoro preciso non l'aveva e solo ogni tanto prendeva parte a concerti di beneficenza e in città lo chiamavano artista. Andrea Andreevich suonava, tutti ascoltavano in silenzio. Sulla tavola bolliva piano il samovar, ma soltanto Shasha beveva il tè. Poi, quando scoccarono le dodici, si ruppe a un tratto una corda del violino. Tutti si misero a ridere, si affannarono e cominciarono a prendere congedo. Accompagnato il fidanzato, Nadia se ne andò di sopra dove abitava con la madre. Il piano inferiore lo occupava la nonna. In basso, nella sala, cominciarono a spegnere i lumi, ma Sasha era ancora sempre seduto che beveva il tè. Egli beveva il tè sempre a lungo, alla Moscovita, sei o sette bicchieri ogni volta. Nadia, dopo che si fu spogliata e messa a letto, poteva ancora sentire per molto tempo la servitura a settare al piano di sotto e la nonnuccia andare in collera. Infine, tutto si chietò e si udiva solo ogni tanto Sasha che tossicchiava nella sua stanza di sotto in tono di basso. Quando Nadia si svegliò, dovevano essere circa le due. Cominciava l'alba e in qualche posto, lontano, un guardiano batteva dei colpi. Di dormire non aveva voglia. Il letto era troppo molle e la si sentiva a disagio. Nadia, come tutte le scorse notti di maggio, si mise a sedere nel letto e prese a pensare. I pensieri erano sempre gli stessi della notte precedente. Pensieri uniformi, inutili, importuni, a proposito di come Andrea Andrej si era messo a farle la corte e l'aveva fatto alla proposta. Di come lei aveva consentito e poi a poco a poco aveva apprezzato quell'uomo buono e intelligente. Ma chissà perché, adesso che alle nozze non mancava più di un mese, aveva cominciato a provare paura e inquietudine come se l'attendesse qualcosa di indefinito, di penoso. Tic toc, tic toc, batteva pigramente il guardiano. Tic toc. Dalla grande, vecchia finestra si vedeva il giardino. Più in là, degli albusti di lilla densamente fiorito, assonnato e floscio per il freddo e la nebbia, bianca e folta, si avanzava piano verso il lilla e lo voleva sommergere. Sugli alberi lontani gridavano insonnolite le gracchie. Dio mio, perché mi sento così oppressa? Forse la stessa cosa provava prima delle nozze ogni fidanzata. Chissà, o lì c'era l'influsso di Sasha. Ma Sasha, già da alcuni anni di fila, diceva sempre le medesime cose come un libro stampato e quando parlava le sembrava ingenuo e strano. Ma per qual ragione mai Sasha tuttavia non le usciva di mente? Per qual ragione? Il guardiano da un pezzo non batteva più. Sotto la finestra nel giardino aveva impreso a schiamazzare gli uccelli. La nebbia se n'era andata dal giardino. Tutto intorno si era illuminato di luce primaverile. come di un sorriso. Ben presto tutto il giardino scaldato dal sole si animò e le gocce di rugiada sfolgorarono come diamanti sulle foglie. Il vecchio giardino da gran tempo trascurato pareva quel mattino così giovane così elegante. Già si era svegliata la nonnuccia. Sasha si era messo a tossire con voce rude di basso. Si udì mettere in tavola il samovar al piano di sotto e smuoverle sedie. Le ore passavano lente. Nadia ormai da un pezzo si è alzata e ormai da un pezzo passeggia in giardino e la mattina continua a trascinarsi. Ecco Nina Ivanovna lacrimosa con un bicchiere d'acqua minerale in mano. Ella si occupava di spiritismo di omeopatia leggeva molto amava discorrere dei dubbi cui andava soggetta e tutto ciò sembrava a Nadia che la chiudesse fosse un senso profondo misterioso. Adesso Nadia baciò la madre e si avviò al suo fianco. «Perché cosa hai pianto mamma?» domandò. «Ieri prima di dormire mi sono messa a leggere una novella in cui si descrivono un vecchio e sua figlia. Il vecchio è impiegato in qualche posto sì e un superiore si è innamorato della figlia sua. Non ha finito di leggere ma c'è lì un passo tale che era difficile trattenere le lacrime disse Nina Ivanovla e beve un sorso dal bicchiere. Stamattina me ne sono ricordata e ho di nuovo pianto un poco e io tutti questi giorni mi sento così poco allegra disse Nadia dopo un silenzio. Perché non dormo la notte? Non so cara ma quando io non dormo la notte chiudo gli occhi stretti stretti e mi figuro Anna Karenina come cammina e come parla o mi figuro qualcosa di storico del mondo antico? Nadia sentì che la madre non la capiva e non la poteva capire. Sentì questo per la prima volta in vita sua e ne ebbe perfino paura venne voglia di nascondersi e se ne andò nella sua stanza. Alle due sedettero a tavola. Era mercoledì un giorno di magro e perciò alla nonna fu servito un borsk magro poi delle reine con la cascia per stuzzicare la nonna Sasha mangiò la sua minestra di grasso e il borsk magro e gli sediò durante tutto il tempo del pranzo ma le sue cieli riuscivano pesanti immancabilmente a sfondo morale ed egli non faceva appunto ridere quando prima di far largato le aveva in alto le sue dita molto lunghe scarne come quelle di un morto e quando veniva in mente che gli era molto malato e forse non avrebbe più campato a lungo in questo mondo allora si sentiva pietà di lui fino alle lacrime dopo pranzo la nonna se ne andò in camera su a riposare in evanovna sonò un po' di tempo il piano e poi anche lei si ritirò ah cara Nadia cominciò Sasha la sua solita conversazione del dopo pranzo se aveste dato ascolto a me se ella era seduta profondamente in una vecchia poltrona con gli occhi chiusi ed egli camminava piano per la stanza da un angolo all'altro se foste andata a studiare diceva solo le persone istruite e sante sono interessanti ed esse sole sono necessarie quante più persone del genere ci saranno tanto più presto verrà il regno di dio sulla terra della vostra città allora poco a poco non resterà pietra su pietra tutto andrà sotto sopra tutto cambierà come per magia e allora ci saranno qui enormi magnifiche case meravigliosi giardini fontane straordinarie persone fuori del comune ma la cosa principale non è questa la cosa principale è che la folla nel senso nostro quale ora questo malanno allora non ci sarà più perché ogni uomo avrà una fede e ognuno saprà perché vive e neppure uno cercherà appoggio nella folla cara colombella partite fate vedere a tutti che questa vita immobile grigia colpevole vi è venuta a noia fatelo vedere almeno a voi stessa non è possibile sascia io mi sposo ah basta a chi è necessario ciò uscirono al giardino e passeggiarono un poco e comunque sia mia cara bisogna meditare bisogna capire come sia impura come sia immorale questa vostra vita oziosa seguitò sascia capite dunque che se per esempio voi e vostra madre e la vostra nonnuccia non fate niente questo vuol dire che per voi lavora qualcun altro che voi logorate la vita di qualcun altro e forse che questo è onesto non è una cosa turpe Nadia voleva dire sì è vero voleva dire che lei capiva ma negli occhi le spuntarono le lacrime e la a un tratto tacque si contraste tutte e se ne andò in camera sua verso sera venne Andrea e Andrieiz e come al solito sonò a lungo il violino in genere era poco loquace e forse amava il violino perché mentre suonava poteva star zitto dopo le dieci andandosene a casa già col cappotto indosso egli abbracciò Nadia e si mise a baciarle avvitamente il volto le spalle le mani cara diretta mia bellissima mormorava oh come sono felice divento pazzo dall'entusiasmo e a lei pareva di aver udito ciò già da molto tempo da moltissimo tempo o di averlo letto in qualche posto in un romanzo o in un vecchio romanzo strappato ormai da un pezzo buttato via nella sala Sasha era seduto davanti alla tavola e prendeva il tè dopo aver posto il piattino sulle sue lunghe cinque dita la nonnuccia faceva un solitario Nina Ivanovla leggeva la fiamma crepitava nella piccola lampada e tutto pareva quieto felice Nadia salutò e se ne andò di sopra si colicò e subito prese sonno ma come già la notte avanti aveva appena cominciato a far giorno che la si svegliò di dormire non aveva più voglia nell'anima sentiva un'inquietudine un peso stava seduta con la testa posata sulle ginocchia e pensava al fidanzato alle nozze chissà perché si ricordò che sua madre non aveva amato il proprio marito buonanima e ora non possedeva nulla e viveva in una totale dipendenza dalla propria suocera la nonnuccia e Nadia per quanto pensasse non poteva capire perché finora avesse veduto in sua madre qualcosa di speciale di straordinario perché non avesse scorto in lei una donna semplice comune disgraziata anche Sasha non dormiva da basso lo si sentiva tossire era un uomo strano ingenuo pensava Nadia e nelle sue fantasticherie in tutti quei meravigliosi giardini in quelle fontane straordinarie si sentiva un che di assurdo ma chissà perché nelle sue ingenuità e perfino in quell'assurdità c'era tanto di bello che appena lei di ansia aveva pensato se non dovesse andare a studiare subito tutto il suo cuore tutto il suo petto era stato investito da un soffio fresco e non dato da un senso di gioia di entusiasmo ma è meglio non pensare è meglio non pensare mormorava non bisogna pensare a questo tic toc batteva il guardiano in qualche punto lontano tic toc tic toc sascia alla metà di giugno cominciò improvvisamente ad annoiarsi e si accinse ad andare a mosca non posso vivere io in questa città diceva cupo né acquedotto né fogne a pranzo mangio con ripugnanza in cucina c'è una sporcizza inconcepibile ma aspetta un pochino figlio al prodigo lo esortava la nonna chissà perché sottovoce il sette di questo mese ci sono le nozze non voglio volevi pure restare qui da noi fino a settembre ma adesso non voglio più ho bisogno di lavorare l'estate era umida e fredda gli alberi erano bagnati tutto il giardino aveva un aspetto arcigno e triste veniva in realtà voglia di lavorare nelle stanze di sotto e di sopra si udivano voci femminili sconosciute nella stanza della nonna rumoreggiava la macchina da cucire si si affrettava ad allestire il corredo di sole pellizze a Nadia ne davano sei e la più economica di esse secondo le parole della nonna costava trecento rubli il tramenio irritava Sascha egli se ne stava nella sua camera e si stizziva ma tuttavia lo persuasero a rimanere ed egli diede parole che sarebbe partito il primo di luglio non prima il tempo passava rapido il giorno di san Pietro dopo pranzo Andrei Andrieic andò con Nadia in via Mosca per visitare ancora una volta la casa che era stata presa in affitto e già da un pezzo preparata per gli sposi era una casa a due piani ma per il momento era stato arredato solo il piano superiore nella sala c'era un pavimento lucido verniciato a parquet delle sedie viennesi un pianoforte un leggio per violino si sentiva odor di vernice su una parete era appeso in cornice dorata un gran quadro dipinto ad olio una signora nuda e accanto a lei un vaso di color lilla col manico rotto meraviglioso quadro disse Andrei Andrieic e in segno di rispetto sospirò è del pittore Sismacevski più avanti c'era il salotto con una tavola rotonda un divano e poltrone coperte di una stoffa azzurro chiara al di sopra del divano un grande ritratto fotografico del padre di Andrei in calotta e con le decorazioni poi entrarono nella sala da pranzo con accanto la credenza poi nella stanza da letto qui stavano nella penombra due letti affiancati e pareva che quando avevano arredato la camera avessero avuto presente che lì si sarebbe trovati sempre molto bene e che non poteva essere altrimenti Andrei Andrei conduceva Nadia per le stanze tenendola sempre per la vita ed ella si sentiva debole colpevole odiava tutte quelle stanze i letti le poltrone e le dava la nausea quella signora nuda per lei era già chiaro che aveva cessato di amare Andrei Andrei o forse non l'aveva amato mai ma come dir questo a chi dirlo e a che scopo non capiva e non poteva capire sebbene ci avesse pensato tutti i giorni tutte le notti egli la teneva per la vita le parlava in modo così affettuoso e modesto ed era tanto felice mentre passezzava per quel suo appartamento ma lei vedeva in tutto soltanto la volgarità una sciocca ingenua insopportabile volgarità e il braccio di lui che le cingeva la vita le pareva rigido e freddo come un cerchio di ferro e in ogni momento era sul punto di scappar via di mettersi a singhiozzare di buttarsi dalla finestra andrei andreiiz la condusse nella stanza da bagno e lì toccò la chiavetta fissata nella parete e di colpo ne scaturì l'acqua che te ne pare disse egli e scoppiò a ridere ho fatto fare nel solaio una vasca della capacità di cento secchi ed ecco che ora noi due avremo l'acqua passarono per il cortile poi uscirono sulla via e presero una vettura di piazza la polvere volava in densi nuvoli e pareva che da un momento all'altro fosse per piovere non hai freddo domandò Andrea Andreace strizzando gli occhi per la polvere e la rimase zitta ieri Sasha ti ricordi mi ha rimproverato di non far niente disse dopo un po' di silenzio e che ha ragione infinitamente ragione io non faccio e non posso far nulla mia cara perché questo perché mi ripugna tanto per fin l'idea di dovermi un giorno o l'altro attaccare al berretto una coccarda e di andarmi ad impiegare perché mi sento così a disagio quando vedo un avvocato o un insegnante di latino o un membro della giunta ah mamma Russia ah mamma Russia quanta gente oziosa è inutile tu porti ancora sulle tue spalle quanti come me ti stanno addosso povere martire e il fatto che non faceva nulla egli lo generalizzava e vedeva in ciò un segno dei tempi quando saremo sposati seguitò andremo insieme in campagna mia cara e là lavoreremo ci compreremo un piccolo pezzo di terra con un giardino su un fiume e faticheremo osserveremo la vita oh come sarà bello e gli si tolse il cappello e le chiome gli svolazzarono a causa del vento ma lei lo ascoltava e pensava oddio voglio andare a casa oddio quasi in prossimità della casa e si sorpassarono il padre di andriei ecco che viene anche mio padre si rallegrò andriei andriei e agitò il cappello io voglio bene al mio bambino davvero disse mentre regolava col vetturino è un vecchio eccellente è un buon vecchio Nadia entrò in casa irritata non sentendosi bene pensando che tutta la sera ci sarebbero stati ospiti che avrebbe dovuto intrattenerli sorridere ascoltare il violino ascoltare ogni sorta di fripolezze e parlare solo delle nozze la nonna grave sfarzosa nel suo abito di seta altera quale appariva sempre in presenza di ospiti stava seduta vicino al samovar entrò padre andriei col suo furbo sorriso ho il piacere e la beata consolazione di vedervi in buona salute vi seglia la nonna ed era difficile capire se ce liasse o dicesse sul serio il vento picchiava alle finestre sul tetto se nuova il fischio e nella stufa lo spiritello domestico cantichiava lamentoso e tetro la sua canzoncina era luna di notte in casa tutti già si erano colicati ma nessuno dormiva e a Nadia sembrava tuttora che da basso si sonasse il violino si udì un colpo violento probabilmente si era staccato l'imposta dopo un minuto entrò Nina Ivanovna in sola camicia con una candela in mano che cosa è stato questo colpo? domandò la madre coi capelli raccolti in una sola trezza con un timido sorriso in quella notte tempestosa pareva più vecchia più brutta e più piccola di statura a Nadia venne in mente che ancora poco tempo prima considerava sua madre come una donna straordinaria e ascoltava con orgoglio le parole che ella diceva ma ora non poteva in alcun modo ricordarsi di quelle parole tutto ciò che le ritornava alla memoria era così debole così futile entro la stufa risonò il canto di alcune voci di basso e su di perfino ah dio mio Nadia si mise a sedere nel letto e a un tratto si prese con forza i capelli e cominciò a singhiozzare mamma mamma disse mia diletta se tu sapessi quel che mi succede ti prego ti scongiuro permettimi di partire te ne scongiuro per andar dove domandò Nina Ivanovna senza capire e sedette sul letto dove vuoi andare Nadia pianse a lungo senza poter pronunziare nemmeno una parola permettimi di andare via dalla città disse infine il matrimonio non si deve fare e non si farà capisci io non amo quell'uomo anche parlare di lui non posso no mia diletta no prese a dire Nina Ivanovna in fretta terribilmente spaventata calmati questo ti succede perché hai l'animo mal disposto passerà sono cose che succedono probabilmente hai bisticciato con Andrie ma per gli innamorati litigare è solo un piacere va va via mamma va via singosò Nadia sì disse Nina Ivanovna dopo un silenzio è molto tempo che eri una bambina una ragazzina e ora sei già una fidanzata nella natura c'è un continuo ricambio e non ti accorgerai che tu stessa diventerai madre e vecchia e anche tu avrai una figliola restia come l'ho io mia cara buona mamma tu sei intelligente tu sei disgraziata disse Nadia sei molto disgraziata ma perché dici cose tristi per l'amor di dio perché Nina Ivanovna voleva dire qualcosa ma non poteva pronunziare una sola parola fece un singulto e andò in camera sua i bassi tornarono a rombare nella stufa e ad un tratto Nadia ebbe paura balzò giù dal letto e andò rapidamente dalla madre Nina Ivanovna lacrimosa giaceva nel letto sotto la coperta azzurra e teneva nelle mani un libro mamma ascoltami profe di Nadia ti supplico rifletti e capiscimi capisci soltanto fino a che punto è meschina e umiliante la nostra vita a me si sono aperti gli occhi adesso vedo tutto e che cosa è mai il tuo Andriei Andrieis non è mica intelligente mamma oh signore mio dio capiscilo mamma è uno sciocco Nina Ivanovna balzò su a sedere tu e tua nonna mi tormentate disse con un singulto io voglio vivere vivere ripetè e si batte in petto col pugno un paio di volte datemi dunque un po' di libertà io sono ancora giovane io voglio vivere e voi di me avete fatto una vecchia si inizia a piangere amaramente si stese giù e si acciambellò sotto la coperta e parve così piccola misera scioccarella Nadia andò nella propria stanza si vestì e postaci a sedere presso la finestra cominciò ad attendere il mattino tutta la notte rimase seduta a pensare mentre qualcuno nel cortile picchiava sempre sull'imposta e fischiettava la mattina la nonna si lagnò e nel giardino la notte il vento aveva buttato giù tutte le mele e aveva spazzato un vecchio susino il tempo era grigio fosco sconsolato tanto da potersi accendere i lumi tutti si lamentavano del freddo e la pioggia batteva alle finestre dopo il tè Nadia andò da Sasha e senza dirne nemmeno una parola si ingilocchiò in un angolo vicino a una poltrona e si coprì il volto con le mani che c'è domandò Sasha non posso e la proferì come abbia potuto vivere qui in passato non lo comprendo non lo concepisco il mio fidanzato lo disprezzo me stessa mi disprezzo disprezzo tutta questa vita oziosa insensata beh beh disse Sasha non comprendendo ancora di che si trattasse non è nulla questo è bene questa vita mi è divenuta odiosa continuò Nadia io non reggerò qui nemmeno più un giorno domani stesso me ne andrò di qua prendetemi con voi per l'amor di Dio Sasha la guardò per un minuto con meraviglia infine capì e si rallegrò come un bambino agitò le mani e cominciò a scalpicciare con le pantofole come se ballasse dalla gioia magnifico diceva fregandosi le mani Dio com'è bello ma ella lo guardava senza batter ciglio con gli occhi spalancati pieni di amore come affascinata aspettando che gli le dicesse subito qualcosa di significativo di smisuratamente importante egli non le disse ancora nulla ma a lei sembrava già che le si scoprisse dinanzi un che di nuovo e di vasto che prima non conosceva e già lo guardava piena di aspettativa pronta a tutto magari alla morte domani io parto egli disse dopo aver riflettuto e voi verrete ad accompagnarmi alla stazione il vostro bagaglio lo metterò nella mia valigia e prenderò il biglietto per voi al terzo segnale di campanello salirete in carrozza e partiremo mi accompagnerete fino a Mosca e di là andrete solo a Pietroburgo il passaporto ce l'avete? ce l'ho? ve lo giuro voi non rimpiangerete nulla e non vi pentirete disse Sasha con foga andrete là studierete e poi che riguardi il destino quando avrete capovolto la vostra vita tutto muterà l'essenziale è capovolgere la vita tutto il resto non è necessario e così dunque domani partiremo oh sì per l'amor di dio a Nadia pareva di essere molto agitata di aver nell'anima una pena come non mai di dover ora soffrire e meditare tormentosamente fino alla partenza ma appena fu giunta di sopra in camera sua e si fu stesa sul letto subito si addormentò e dormì profondamente col volto arrossato dal pianto e sorridente fino a sera si mandò per una vettura Nadia ormai in cappello e cappotto andò di sopra per dare ancora uno sguardo alla madre e a tutte le cose sue sostò nella propria stanza vicino al letto ancora caldo si guardò intorno poi andò piano dalla madre Nina Evanovla dormiva la camera era silenziosa Nadia baciò la madre e le ravviò i capelli ristette un paio di minuti poi senza fretta tornò di sotto fuori pioveva forte la vettura col mantici tirato su tutta bagnata stava all'ingresso non c'è posto per te Nadia disse la nonna quando la donna di servizio cominciò a caricarle valise e che voglia di accompagnarlo con un tempo simile dovresti rimanere a casa che pioggia Nadia voleva dire qualcosa ma non poteva ecco che Sasha ha fatto salire Nadia e gli ha riparato le gambe con la coperta da viaggio ecco che egli stesso ha preso posto al suo fianco buon viaggio buon viaggio che il signore ti benedica gridava dal terrazzino la nonna tu Sasha scrivici da mosca sta bene addio non nuccia che la regina dei cieli ti conservi ma che bel tempo disse Sasha Nadia solo adesso si mise a piangere ormai le era chiaro che sarebbe partita senza fallo cosa a cui tuttavia non credeva ancora quando salutava la nonna quando guardava la madre addio città e tutto le tornò in mente di colpo e Andrei e suo padre e l'appartamento nuovo e la signora nuda col vaso e tutto questo non le faceva più paura non le pesava più ma era inzenuo meschino e fuggiva sempre più indietro ma quando furono seduti nel carrozzone e il treno si mosse tutto quel passato così grande e serio si ridusse a un gomitolino mentre si dispiegava un vasto immenso avvenire che fino allora era stato così poco visibile la pioggia batteva sui finestrini del carrozzone si vedevano soltanto i campi verdi baluginavano i pali telegrafici e gli uccelli sui fili e la gioia tutta un tratto le serrò il respiro si era ricordata che viaggiava verso la libertà che andava a studiare e ciò era la stessa cosa che in un tempo molto lontano si chiamava andare fra i cosacchi e la rideva e piangeva e pregava non è niente diceva Sasha sorridendo non è niente passò l'autunno e dopo di esso passò l'inverno Nadia sentiva ormai forte la nostalgia e ogni giorno pensava alla madre e alla nonna pensava a Sasha le lettere che giungevano da casa erano serene buone e pareva che tutto ormai fosse stato perdonato e dimenticato a maggio dopo gli esami ella sana allegra andò a casa e per via si fermò a Mosca per incontrarsi con Sasha egli era sempre tale quale come l'estate passata barbuto con la testa arruffata sempre con quella stessa giubba e con i calzoni di tela sempre con quegli occhi grandi e belli ma aveva un'aria malsana sfinita era invecchiato e dimagrito e tossicchiava di continuo e chissà perché parve a Nadia Scialbo provinciale dio mio è arrivata Nadia e gli disse e scoppiò a ridere allegramente mia cara colombella stettero un poco nella litografia dove era pieno di fumo e si sentiva un odore forte sino a soffocare di inchiostro di china e di colori poi andarono nella sua stanza dove c'era fumo e sputi per terra sulla tavola accanto al samovar diventato freddo stava un piatto rotto con un foglietto di carta scura e sulla tavola sul pavimento c'era una quantità di mosche morte e lì si poteva vedere da ogni cosa che Sasha aveva dato alla sua vita personale un corso disordinato e viveva come gli capitava con un tale disprezzo per le comodità e se qualcuno avesse cominciato a parlare con lui della sua personale felicità della sua vita personale di affetto per lui non avrebbe capito niente e si sarebbe soltanto messo a ridere non c'è male tutto è andato felicemente raccontava Nadia in fretta la mamma è venuta da me in autunno a Pietroburgo e ha detto che la nonna non era in collera ma andava solo di continuo nella mia stanza e faceva dei segni di croce verso le pareti Sasha aveva un aspetto gaio ma tossicchiava e parlava con voce fessa e Nadia non faceva altro che osservarlo e non capiva se in realtà fosse seriamente malato o se questo le sembrasse soltanto Sasha mio caro disse ma voi siete malato? no non è nulla malato sì ma non molto ah dio mio disse Nadia agitata perché non vi curate? perché non avete riguardi per la vostra salute? mio caro buon Sasha proferì e le lacrime le sgorgarono dagli occhi e chissà perché nella sua immaginazione risorsero Andrei Andries e la signora nuda quel vaso e tutto il suo passato che ora le pareva così lontano come l'infanzia e si mise a piangere perché Sasha non le sembrava più così nuovo intellettuale interessante come era l'anno prima caro Sasha voi siete molto molto malato io non so quel che farei perché non foste così pallido e magro io vi devo tanto non vi potete neppur figurare quanto abbiate fatto per me mio buon Sasha in fondo voi siete ora per me la persona più vicina più cara si trattennero a discorrere e ora dopo che Nadia aveva passato un inverno a Pietroburgo da Sasha dalle sue parole dal suo sorriso da tutta la sua figura spirava anche di disusato di fuor di moda di finito da un pezzo e forse di già calato nella tomba io dopo domani mi recherò sul volga disse Sasha sì e poi a far la cura del cumisse voglio bere un po' di cumisse e con me viene un amico in compagnia della moglie la moglie è una persona meravigliosa cerco sempre di smuoverla di persuaderla perché vada a studiare voglio che capovolga la sua vita dopo aver chiacchierato andarono alla stazione Sasha le offrì il tè e delle mele e quando il treno si mosse mentre egli sorridendo sventolava il fazzoletto perfino dalle sue gambe si poteva capire che era molto malato e difficilmente sarebbe vissuto a lungo Nadia giunse nella sua città a mezzogiorno mentre dalla stazione andava a casa le vie le parevano larghissime e le case piccole schiacciate gente non ce n'era e incontrò soltanto un accordatore tedesco con un cappotto rossiccio e tutte le case sembravano coperte di polvere la nonna ormai proprio vecchia e come prima grassa e brutta cinse Nadia con le brazze e pianse a lungo serrandosi col viso alla sua spalla e non poteva più staccarsi da lei anche Nina Ivanovna era molto invecchiata e imbruttita si era come affilata tutta ma era ancora sempre stretta nel busto come in passato e i brillanti le sfavillavano sulle dita mia diletta diceva tremando in tutto il corpo mia diletta poi stettero seduta piangendo in silenzio si vedeva che la nonna e la mamma sentivano che il passato era per sempre irrevocabilmente perduto non avevano più la posizione sociale nell'onore di prima nel diritto di invitare in casa degli ospiti così succede quando nel bel mezzo di una vita leggera spensierata irrompe ad un tratto di notte e la polizia fa una perquisizione e poi risulta che il padron di casa ha prevalicato commesso dei falsi e allora addio per sempre vita leggera spensierata nadia andò di sopra e rivide quello stesso letto con le stesse finestre con ingenue tendine bianche e dalle finestre quello stesso giardino inondato di sole gaio chiassoso e la toccò col dito la sua tavola e stette un po' seduta a pensare poi pranzò bene e prese il tè con una panna gustosa grassa ma qualcosa ormai le mancava sentiva un vuoto nelle stanze e i soffitti erano bassi la sera si coricò si coprì e chissà perché le pareva buffo essere distesa in quel letto caldo e molto soffice venne per un minutino Nina Ivanovna e sedette come ci mettono a sedere i colpevoli timidamente e guardandosi intorno beh come va Nadia domandò dopo un po' di silenzio sei contenta sei molto contenta sì sono contenta mamma Nina Ivanovna si alzò e fece il segno della croce su Nadia e sulle finestre e io come vedi sono diventata religiosa disse sai io adesso mi occupo di filosofia e penso penso sempre e per me adesso molte cose si sono fatte chiare come il giorno prima di tutto bisogna mi pare che tutta la vita passi come attraverso un prisma dimmi mamma come va la salute della nonna a quanto pare non c'è male quando tu partisti allora con Sasha e poi giunse da parte tua un telegramma la nonna come l'ebbe letto cadde a terra rimase a letto tre giorni senza fare un movimento poi non fece altro che pregar Dio e piangere ma adesso non c'è male e la si alzò e passeggiò per la stanza tic toc batteva il guardiano tic toc tic toc prima di tutto bisogna che tutta la vita passi come attraverso un prisma disse cioè con altre parole bisogna che la vita della nostra coscienza si divida nei suoi più semplici elementi come nei sette colori fondamentali ed ogni elemento va studiato separatamente quel che disse ancora Nina Ivanovna e quando andò via Nadia non udì più perché ben presto si addormentò passò il maggio venne il giugno Nadia si era già riabituata alla casa la nonna si affacendava attorno al samovar e sospirava profondamente Nina Ivanovna parlava la sera della sua filosofia come in passato viveva nella casa come una parassita e doveva rivolgersi alla nonna per ogni moneta da due grivne in casa c'erano molte mosche e pareva che i soffitti delle stanze diventassero sempre più bassi la nonnuccia e Nina Ivanovna non uscivano sulla via per paura di imbattersi in padre Andriei e in Andriei Andrieic Nadia camminava per il giardino e per la via guardava le case gli stecconati grigi e le pareva che nella città tutto fosse invecchiato ormai da un pezzo e avesse fatto il suo tempo e che tutto aspettasse soltanto o la propria fine o il principio di un che di nuovo e di fresco ah se fosse sopraggiunta presto quella vita nuova e serena quando sarebbe stato possibile guardare direttamente e arditamente negli occhi il proprio destino sentirsi nel giusto essere allegri e liberi e una simile vita presto o tardi sarebbe spuntata sarebbe pur venuto il tempo in cui della casa della nonna dove tutto era assestato in tal modo che quattro donne di servizio non potevano vivere altrimenti che in un'unica stanza dal piano sotterraneo nella sporcizia sarebbe pur venuto il tempo in cui di quella casa non sarebbe rimasta neppur la trazza e la gente l'avrebbe dimenticata nessun più se ne sarebbe ricordato e distraevano Nadia soltanto i ragazzini del vicino cortile quando ella passeggiava per il giardino essi picchiavano sullo stecconato e la canzonavano ridendo fidanzata fidanzata giunse da Saratov una lettera di Sasha e gli scriveva con la sua allegra ballonzolante scrittura che il viaggio sul volga gli era pienamente riuscito ma che a Saratov era stato un po' indisposto aveva perduto la voce e già da due settimane era all'ospedale e la capì quel che ciò significava e un presentimento simile a una certezza si impossessò di lei e le dispiaceva che questo presentimento e questi pensieri riguardo a Sasha non l'agitassero come prima aveva una voglia appassionata di vivere voleva andare a Pietroburgo e la conoscenza con Sasha gli appariva ormai come un caro ma lontano lontano passato tutta la notte non dormì e la mattina stette seduta presso la finestra tendendo l'occhio e in realtà si udirono delle voci in basso la nonna sgomenta si mise a far domande in fretta a proposito di qualche cosa poi qualcuno cominciò a piangere quando Nadia scese di sotto la nonna stava ritta in un angolo e pregava e il suo volto era rosso di pianto sulla tavola giaceva un telegramma Nadia camminò a lungo per la stanza ascoltando la nonna piangere poi prese il telegramma e lo lesse si informava che la sera del giorno prima a Saratov era morto di Tisi Alexander Timofjeits o semplicemente Sasha la nonna e Nina Ivanovra andarono in chiesa a ordinare una messa funebre e Nadia camminò ancora a lungo per le stanze riflettendo era chiaramente consapevole che la sua vita si era capovolta come voleva Sasha e lì lei era sola estranea inutile e che lì tutto era inutile per lei e che tutto il passato si era staccato da lei e si era dileguato come arso e la cenere si era dispersa nel vento e la entrò nella camera di Sasha e vi sostò addio caro Sasha pensava e dinanzi a lei si disegnava una vita nuova larga vasta e quella vita ancora confusa piena di misteri la traeva e l'invitava segnando di sopra da farle valise e la mattina del giorno seguente disse addio ai suoi e vivace allegra abbandonò la città come la supponeva per sempre grazie 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 grazie